Bentornati amici, un saluto da Luigi Duchi, oggi ci occuperemo di Finder, in realtà non proprio di Finder ma di relais passo passo che sono comunemente presenti all'interno dei nostri appartamenti, non sempre ci sono ma molto spesso lo sono e molto spesso all'interno del nostro blog ci è stato chiesto su come poter sostituire un relais passo passo come ad esempio il 2601 della Finder con uno Shelly Plus o comunque con un dispositivo smart oggi avremo diciamo sotto test questo qui il Shelly Plus e di conseguenza avremo il cambio con questo ma prima di concentrarmi sul cambio fisico proprio del dispositivo con un device di tipologia smart voglio un attimo soffermarmi su il relais passo passo per fare una piccola delucidazione e anche andare a chiarire alcune cose che sono sempre state fonte di atriba fra gli elettricisti nel corso dei secoli, dei secoli, diciamo così, anche se in realtà è molto più breve il periodo una piccola introduzione, che cos'è un relais? un dispositivo elettromeccanico con all'interno una bobina, una bobina che può essere alimentata a 230 volt 12 a 24, a 48, corrente continua, corrente alternata, ce ne sono veramente come peccati adatti ad ogni singolo utilizzo, dipende da quello che dobbiamo farci tendenzialmente i relais passo passo che abbiamo all'interno dei propri appartamenti hanno una bobina a 230 volt e comunemente sono dei dispositivi del genere questo è un 2601 della Finder che ha un contatto pulito ma ne esistono anche con contatti alimentati ne parleremo dopo le grandi distinzioni, oltre ovviamente alla differenza dell'alimentazione della bobina stessa sono divisibili diciamo su due sottocategorie, quindi il relais monostabile e il relais bistabile i relais monostabili sono quei relais che si accendono e si spengono quando viene applicata una tensione e una volta la tensione viene rimossa il relais ritorna allo stato di riposo come vi posso dire, ad esempio, anche se non è proprio così, un contattore potrebbe essere definito un relais monostabile anche se non è proprio così, ma comunque un relais monostabile in quanto quando arriva la corrente alla bobina chiude il contatto una volta tolta la corrente apre il contatto questo se il contattore o comunque il relais è un relais di tipologia normalmente aperto altrimenti funziona all'inverso, ovvero rimane sempre chiuso il contatto e quando arriva la corrente elettrica si apre e rimane aperto fino a quando la corrente elettrica non viene eliminata e questo è a grandi linee quello che è un relais monostabile ma non è il caso nostro questo definito relais di impulsi, relais passo passo c'è chi lo chiamano un modo e chi lo chiamano un altro, sono corrette entrambe in realtà è un relais bistabile anche questo è munito di una bobina come il relais monostabile ma cambia di stato fino alla successiva erogazione di corrente ad esempio il classico esempio è il pulsante che viene premuto in quel momento dà una corrente alla bobina e quindi fa chiudere o aprire il contatto a seconda se era già chiuso o se era aperto e rimane chiuso o aperto fino alla successiva pressione del pulsante quindi alla successiva erogazione di corrente sulla bobina ad esempio se io vado a premere il pulsante si chiude il contatto e si accende la luce e ovviamente rimane accesa fino a quando non vado a premere nuovamente il pulsante non vado a dare corrente nuovamente alla bobina del nostro relais passo passo e fin qui diciamo che è tutto a posto ma approfondiamo una cosa che come vi dicevo prima è una grossa 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 dietriva fra tutti gli elettricisti nel corso del tempo sul pulsante va portato il neutro o va portato la fase è corretto portare il neutro, è corretto portare la fase, è corretto entrambi vediamo un po' che cosa dice la norma CEI al riguardo la norma CEI al riguardo che andiamo a vedere adesso sul mio computer finalmente ha aggiornato questa sottosezione e lo andremo a leggere insieme allora ragazzi prima di andare a vedere la normativa CEI vi voglio far vedere la scheda tecnica del dispositivo che abbiamo utilizzato oggi quindi Finder 2601 e come noterete eccolo qua il nostro relais è un relais con un contatto normalmente aperto il contatto pulito come vedete la bobina è completamente sganciata dal contatto e in questo caso sul pulsante si può collegare sia il neutro che la fase a seconda di questi due schemi ora nello schema in realtà c'è il 2602 voi ignorate il morsetto 3 e 4 perché il 2602 è un relais con due contatti normalmente aperti ma a noi non ci interessa quindi diciamo che il 3 e il 4 non esistono nel 2601 o perlomeno la forma è identica ma nel 3 e il 4 di morsetto non troverete le viti quindi come notate vedete ci sono due lampade collegate ignorate il morsetto 3 e il morsetto 4 quindi fate riferimento solo al morsetto 1 e al morsetto 2 e qui vediamo i due schemi di compatibilità e di collegamento quindi abbiamo detto che la fase va portata al morsetto 1 che è un polo del contatto pulito e il ritorno di lampada va portato al morsetto 2 questo perché? perché il relais deve necessariamente interrompere la fase e fin qui ci siamo tutti cioè quando la luce è spenta deve essere spenta perché viene interrotta la fase e non il neutro e questo non lo dico io lo dice la normativa CEI e fin qui tutto bene allora in questo caso cos'è successo? loro hanno portato nel primo schema al primo polo della bobina quindi A1 la fase diretta e essendo relea di impulsi hanno collegato sui pulsanti il neutro alla pressione di un pulsante sulla A1 abbiamo già la fase diretta ad A2 arriverà il neutro e quindi la bobina verrà eccitata e chiuderà il contatto fino alla successiva pressione del pulsante che andrà ad alimentare nuovamente la bobina ma essendo un relais bistabile andrà ad aprire il contatto e quindi farà spegnere la lampada se andiamo a vedere nel collegamento accanto noteremo praticamente una situazione analoga anche in questo caso dovrete ignorare il morsetto 3 e il morsetto 4 perché vi ripeto è stato fatto sul relais 2602 ma è praticamente uguale il funzionamento ad eccezione di questi due contatti invece che un solo contatto fra uno e due sono tutti e due comunque contatti normalmente aperti e puliti quindi puliti privi di tensione quindi che cosa accade? in questo caso hanno portato su A2 quindi su un polo della bobina il neutro diretto hanno portato la fase diretta sul primo morsetto del contatto pulito sul 2 invece hanno collegato il ritorno di lampada e in questo caso i pulsanti vanno ad interrompere la fase e viene poi portato il ritorno del pulsante su A1 e ogni volta che andiamo a premere la bobina riceve tensione quindi si va a chiudere o ad aprire il contatto questo perché abbiamo visto che è un relais bistabile vi ho già spiegato prima le differenze quindi nel caso del 2601 non ci interessa niente che il pulsante riceva il neutro o la fase ai fini del funzionamento c'è anche un ulteriore relais che è il 2701 che ha una bobina diciamo la fase in comune con la bobina ma se noi andiamo a vedere lo schema di collegamento che propone Finder noterete che su A1 abbiamo la fase diretta e su A2 abbiamo il neutro interrotto dal pulsante questo perché la fase praticamente è in corrispondenza dell'uscita quindi uscirà non un contatto pulito ma alimentato e la fase è in parallelo a quella della bobina quindi quando arriva il neutro sulla bobina viene chiuso il contatto e fa passare la fase di A1 anche sul ritorno in questo caso anche qui abbiamo due contatti ma tendenzialmente dovrebbe essere uno solo questo è il modello con due uscite e in generale il 2 e il 4 non c'è la vite quindi non c'è il contatto nel 2701 qui vedete che è uno schema di collegamento per varie tipologie ma è il classico relay arancione della Finder per intendersi quindi come notate anche in questo caso arriva il neutro a pulsanti ma non è possibile in questo caso portare la fase ai pulsanti perché altrimenti saremo costretti a portare su A1 il neutro e andremo a portare il neutro alla chiusura del contatto e non la fase alla lampada il che è sbagliato non si può fare per normativa adesso in rete si leggono veramente tantissime cose si leggono addirittura gente che voi seguaci delle aziende perché le aziende vi obbligano a mettere il neutro e come pecore andate dietro a questa cosa ora io voglio dire una cosa io sono andato personalmente con Vincenza la Finder è un'azienda che non ha nulla a invidiare a nessuna azienda di prodotti elettrici producono tutto dalla A alla Z e compreso dalla polvere di plastica per arrivare ad assemblare proprio i contenitori del relay stesso dei vari relay stessi e dei vari dispositivi che hanno secondo voi oggettivamente cosa costerebbe all'azienda mettere un relay che ha come tipo di attivazione il supporto per il neutro o per la fase a livello di costo sarebbe assolutamente niente quindi smettiamola assolutamente di seguire queste notizie lanciate là per i like probabilmente perché nessuna lobby dei relay vuole che voi portiate il neutro ai pulsanti o la fase ai pulsanti non gliene frega niente a nessuno se non vendere ovviamente i loro prodotti quindi sentitevi liberi di fare quello che volete ma 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 che cosa dice la legge CEI la legge CEI che è stata diciamo aggiornata perché prima probabilmente era di difficile interpretazione purtroppo un problema dell'italiano è che l'italiano inteso come popolo non interpreta la legge è solo quello che vuole leggere e di conseguenza dobbiamo proprio specificare nello specifico quello che è poi la legge CEI cioè la legge della normativa CEI scritto parola per parola testuali parole per far capire alla gente che in realtà non bisogna picchiare la testa nel muro e leggere senza interpretare ma leggere e interpretare ma visto che molti non sono in grado è intervenuta la normativa italiana CEI che ha specificato questo argomento e infatti nell'articolo 463.1.2 del nono rilascio della normativa italiana CEI quindi l'ultima normativa che è in vigore è stata rilasciata pochissimo tempo fa recita queste testuali parole i dispositivi di comando funzionale non devono necessariamente interrompere tutti i conduttori attivi di un circuito quindi non è necessario che ad esempio venga interrotto per forza fase in neutro ma è necessario che venga interrotto solo una dei conduttori quindi la fase ovviamente perché viene specificato nella parte sotto e dice un dispositivo di comando unipolare non deve essere non deve essere inserito sul conduttore di neutro e la gente si fermava qui e quindi sui pulsanti non si può mettere il neutro ad eccezione delle connessioni del dispositivo di comando dei circuiti di illuminazione vedere la figura 46.1 ma prima di scorrere in giù e farvi vedere la figura 46.1 voglio puntualizzare una cosa ovviamente qui dice un dispositivo di comando unipolare quindi cosa potrebbe essere un dispositivo di comando unipolare mi viene in mente un interruttore il classico interruttore e in questo caso l'interruttore ovviamente non può interrompere il neutro perché va ad agire direttamente sul punto luce sulla lampada di conseguenza si può definire a tutti gli effetti un attuatore in questo caso un interruttore perché premendolo si va a azionare a far passare un conduttore attivo nel circuito e quindi andare ad alimentare la lampada e di conseguenza deve essere necessariamente la fase perché quando la lampada è spenta io devo avere solo il neutro sulla lampada la fase non ci deve essere per una questione di sicurezza altrimenti c'è il rischio che toccando appunto la lampada si riesce si prende la scossa e magari se siamo protetti da adeguate protezioni c'è il rischio anche di farsi male se non arrivare addirittura alla morte e quindi l'interruttore deve interrompere la fase ma in un circuito di pulsanti e relais è il pulsante l'attuatore che va ad attivare la luce questa è la domanda che io vi faccio ma vi rispondo anche assolutamente no in un circuito di pulsanti e relais l'attuatore in questo caso ovvero il dispositivo unipolare se così lo vogliamo chiamare anche se poi gli arriva anche il neutro ma come abbiamo visto nel 2601 ha un contatto pulito solo dove viene attraversato la fase e appunto il relais un 2601 è in questo caso il comando unipolare perché ha un solo polo che interrompe necessariamente la fase ma è lui che deve interrompere la fase non è il pulsante che deve interrompere la fase necessariamente a tal proposito la legge CEI che purtroppo combatte con l'ignoranza delle persone che non sanno interpretare le normative e ahimè hanno dovuto specificare questa cosa e che quindi hanno finalmente chiarito questo discorso e il testo non è definitivo è ancora sottoposto ad inchiesta pubblica ma è passato è così sarà così ovviamente quello che è la legge nuova notate lo schema lo schema è esattamente quello della Finder quindi che cosa vuole dire questo? che non sono cattivoni lobby del relais col pulsante sul neutro come si sente dire da tanti elettricisti che intavolano queste discussioni totalmente inutili secondo il mio punto di vista ma semplicemente è un ragionamento logico che è quello che vi ho fatto prima sul discorso dei comandi unipolari delle attuatori che in questo caso è il relais e è ovvio che il relais deve interrompere la fase ma per interrompere la fase non ha bisogno che sul pulsante ci sia il neutro ci sia la fase dico ma basta anche il neutro come specificato tranquillamente in questo schema quindi smettiamo di fare fantascienza falsa informazione impariamo a leggere le normative e quello che c'è scritto e impariamo ad interpretarle come è giusto che sia bene detto questo penso di aver fatto chiarezza per quanto riguarda i pulsanti che in questo caso appunto possono essere utilizzati con fase e con neutro poi fate attenzione ci sono molti produttori che producono dispositivi che necessariamente necessariamente da schema vogliono per funzionare il pulsante sulla fase non scappano vogliono che sia fatto in quel modo ma non vuol dire che sia giusto quello e sbagliato l'altro la normativa che è l'ultima release che hanno fatto è ben chiara ha specificato questo argomento di conseguenza smettiamo di mettere in giro false indicazioni che sono totalmente sbagliate detto questo io mi sposterei a collegare il relay passo passo facciamo vedere tutti e due i collegamenti in questo caso sia con il pulsante con il neutro e con il pulsante con la fase e poi dopo andremo ad effettuare la sostituzione con un shelly 1 plus allora ragazzi eccomi sul mio banco di test il nostro relay le mie due classiche morsettiere con fase con neutro prima di andare a vedere i collegamenti voglio indicarvi che nonostante che nella corrente alternata non c'è polarità sappiamo benissimo capire qual è la fase e qual è il neutro a tal proposito sono sicurissimo che questa qui sia la morsettiera di fase e che questa sia la morsettiera del neutro come fare a scoprirlo al volo a casa con l'utilizzo di un tester vi svelo un piccolo trucco da elettricista e non effettuate questo a casa potrebbe essere pericoloso se non siete pratici ovviamente vi faccio vedere come notate c'è il mio banco di test con le mie prese andiamo a zoomare qua se io vado a mettere i puntali del tester ovviamente è una presa sicura quindi vanno inseriti contemporaneamente su fase e neutro noterete 230 volt sul tester come facciamo a capire qual è la fase e qual è il neutro sappiamo benissimo che se andiamo a misurare fase e terra con un tester se la terra diciamo è di buona qualità quindi messa su una palina a terra e questo è anche un modo per capire se la terra è collegata o meno basterà spostare un puntale sulla terra e noterete subito scusate non è inserita bene ecco qua noterete subito che sul tester abbiamo 230 volt ora può discostare un po' la tensione se la terra magari non è di ottima qualità invece 230 potrebbe dare un pochino di meno ma insomma a grandi linee è una prova empirica per capire qual è la fase e qual è il neutro se io avessi effettuato la cosa opposta ovvero avessi levato il puntale di destra e l'avessi inserito nel puntale centrale avrei ottenuto praticamente 0 volt 1 volt e qualcosa questo perché ovviamente la terra ha 0 e anche il neutro è 0 e quindi ha questa questa piccola tensione ma non c'è di certo la 230 volt e quindi un modo buono per andare ad identificare qual è la terra e qual è scusate qual è il neutro e qual è la fase e anche con l'occasione andare a vedere se la terra è realmente collegata alla palina certo non è utilizzabile questo sistema per vederne la qualità della terra quindi ci sono strumenti adatti a quello ma questa è una prova empirica per capire se la terra perlomeno è collegata a terra appunto tramite una palina o qualcosa del genere detto questo andiamo a vedere i nostri collegamenti abbiamo visto appunto che la morsettiera di sinistra è la fase la morsettiera di destra è il neutro nella morsettiera di fase ho collegato eccoci qua torniamo un po' indietro con lo zoom nella morsettiera della fase ho collegato una fase diretta al contatto pulito del verlet Finder 2601 e l'altra fase l'ho portata al pulsante la morsettiera del neutro invece va ad un polo del portalampada con la mia mitica lampadina retro ormai compagna delle nostre recensioni e poi il neutro l'ha portato al morsetto A2 della bobina della relais quindi il neutro diretto ad un polo della bobina il filo bianco è ovviamente il ritorno di lampada che va all'altro polo del contatto pulito della relais e in questo caso l'arancione l'ho messo arancione per identificarlo meglio è il ritorno del pulsante che in questo caso ci porta alla fase avendo visto che è un relais bistabile alla pressione del pulsante vado a dare la fase a un polo della bobina il neutro le arriva già diretto la bobina si eccita chiude il contatto essendo un relais bistabile rimarrà chiusa fino alla successiva pressione del pulsante e quindi vediamo che appunto premendolo nuovamente la lampadina si spegne siamo certi che arrivi la 230 volt alla nostra lampada ovviamente sì perché la lampada si accende e siamo certi anche che la nostra lampada abbia la fase sul contatto perché come noterete vi rifaccio vedere dal test ho messo un puntale sulla terra e vado ad inserire un puntale sul ritorno di lampada e come notate abbiamo 230 volt quindi siamo certi che il relais è andato ad interrompere la fase ok e fin qui ci siamo che cosa accade se io invece vado a mettere il pulsante il neutro sul pulsante vediamolo subito ed ecco che abbiamo provveduto ad invertire il neutro quindi non avremo più il neutro diretto sulla bobina del relais ma lo abbiamo sul pulsante e la fase invece è diretta come avete notato quindi ho solo invertito i due fili la fase diretta sulla bobina e il pulsante passa dal e il neutro passa dal pulsante che cosa accadrà che cosa accadrà se premo il pulsante assolutamente niente si accende la luce e se lo vado a premere si spegne e per vedere appunto che sulla lampadina comunque il relais interrompe la fase possiamo andare a vedere con il nostro tester con il nostro tester e noteremo che lo mettiamo qui e poi dopo ve lo faccio vedere ma si dovrebbe già vedere da lì ok nell'inquadratura mi sembra che sia abbastanza visibile quindi se vado a premere il pulsante sappiamo benissimo che qui ci sarà 230 volt questo ovviamente perché la lampadina è accesa quindi non c'è altre cose da vedere se io vado a mettere un pulsante sulla scusate un polo del tester sulla terra e uno sulla nostra fase noterete che c'è 230 volt di conseguenza siamo certi che questa è la fase è interrotta la fase e quindi nonostante che ci sia il pulsante con il neutro il nostro relais va a interrompere la fase che ovviamente abbiamo portato sul contatto pulito dall'altro polo del relais sul nostro contatto quindi quando la bobina si eccita indifferentemente che sul pulsante sia portata a fase neutra ovviamente fa chiudere il contatto e fa passare la fase che abbiamo portato ad un polo della bobina e qui tutto a posto per quanto riguarda il nostro relais 2601 dovrei avere da qualche parte anche eccolo qui un 2701 che come notate non ha un contatto pulito esce alimentato e quindi condivide la fase in ingresso con la nostra uscita quindi non ha un contatto pulito paradossalmente se sul 2601 levassi la fase in ingresso e il ritorno in uscita quando la bobina si eccita mi chiuderebbe semplicemente il contatto fra questi due poli l'uno e insomma il primo e l'ultimo senza che ci sia tensione all'interno perché appunto è un contatto pulito privo di tensione invece in questo relais assolutamente no in uscita abbiamo la fase e qui guardiamo l'importanza di collegare pulsante con neutro o pulsante con fase e vediamo come si comporta ecco che ho collegato un 2701 al posto del relais Finder 2601 proprio come suggerisce lo schema della Finder quindi neutro sul pulsante fase diretta ad A1 quindi ad un polo della bobina il neutro che ritorna la bobina premendo il pulsante e sull'uscita del contatto il ritorno di lampada ovviamente anche il neutro è andato diretto alla lampadina quindi che cosa accade vado a premere il pulsante faccio passare il neutro dal pulsante la fase gli arriva diretta la lampadina si accende e sono certo che questa sia la fase e non il neutro proprio perché lo abbiamo visto prima no con le varie misurazioni che abbiamo fatto con il tester dunque qui direte voi è la lobby dei pulsanti con il neutro Finder che ci impone di mettere il pulsante con il neutro e evidentemente questo relè sta sviluppato così visto che ha tutte le marchiature CE IMQ e via discorrendo non credo che faccia le cose per crudeltà o perché ti vuole imporre il neutro sul pulsante semplicemente questo modello funziona così e fortunatamente la normativa CEI ci è venuta incontro perché ha capito che era stupido non riuscire ad interpretare questa cosa e l'ha voluta specificare ma proviamo proviamo perché sono curioso proviamo di mettere la fase sul pulsante e il neutro sulla bobina vedrete che ci saranno delle problematiche ecco che abbiamo portato il neutro ad A1 direttamente e la fase direttamente al pulsante per poi ritornare ad A2 con il ritorno di lampada che cosa accadrà secondo voi si accenderà la lampadina in questo caso guardando lo schema 2701 non si accenderà o esploderà tutto quanto sarebbe una figata pazzesca se esplodesse tutto quanto ma purtroppo non accade assolutamente nulla questo perché perché con questa tipologia di relais quando vado a chiudere il contatto con questo collegamento faccio uscire il neutro dal contatto e di conseguenza di qua già il neutro qui è il neutro e quindi non accade assolutamente niente la lampada non si accende si sarebbe accesa nel caso che sul secondo polo avessi portato la fase diretta ma sappiamo benissimo che non si può fare l'attuatore deve interrompere completamente il neutro e la fase scusate e il neutro deve essere diretto quindi questa è una modalità che non si può utilizzare non si può in questo caso collegare la fase al pulsante portarla ad A2 e ad A1 mettere il neutro direttamente ma che cosa accade se mettiamo il neutro su A2 e la fase sempre passante dal pulsante su A1 vediamo un po' che cosa accade quindi dicevamo abbiamo invertito adesso su A2 c'è il neutro diretto e su A1 c'è la fase diretta che cosa accadrà si accenderà la lampada si spegnerà esploderà tutto e ve lo dico io cosa succede praticamente andiamo a levare alimentazione alla bobina in questo modo quindi se lo premo una volta e se lascio come notate la lampada si spegne non riesce a rimanere il relè bistabile collegato e quindi anche in questo caso non funziona questo relè qui il 2701 per farlo funzionare a norma quindi con l'interruzione della fase in uscita dal contatto necessita del neutro sul pulsante ahimè mi dispiace per tutti quelli che sostengono la lobby del neutro sul pulsante cosa negativa ragazzi è così funziona così questo relè è sviluppato in questa maniera l'importante è che in ogni caso venga interrotta la fase in uscita dal contatto perché è l'attuatore che deve interrompere la fase e all'utilizzatore finale che è la lampadina quando è spenta deve mancare la fase con il neutro diretto ma il contrario questo è quello che dice la normativa e questo è quello che hanno specificato nell'ultima relays proprio per farvi capire che non c'è nessuna lobby non c'è nessun nessun cattivone crudele che vuole obbligare a mettere il neutro sul pulsante ma semplicemente funzionano così ecco qua ho provveduto a rimontare il 2601 tra l'altro ho portato la fase sul pulsante in questo caso e questo bianco ovviamente è a ritorno di lampada e quindi abbiamo il nostro contatto pulito dove da una parte c'è la fase diretta da quell'altra il ritorno di lampada il neutro che va diretta ad un polo della bobina e la fase interrotta dal pulsante ovviamente avrei potuto mandare la fase diretta e il neutro sul pulsante in questo caso come abbiamo visto prima e poi guardiamo invece quello che è il nostro relays quindi abbiamo output e input che altro non sono che lo stesso contatto che c'è sul 2601 quindi un contatto pulito che interrompe in questo caso la fase che porta poi il ritorno di lampada alla lampada stessa e quindi dovremmo mettere su input il filo di fase diretta e su output in questo caso il bianco che va alla lampada e poi abbiamo su sv noi andremo a mettere il filo arancione che è il ritorno del pulsante e poi avremo bisogno del neutro che noi abbiamo qui sulla nostra morsettiera che in questo momento sta andando alla bobina e ci mancherà un filo di fase diretta che abbiamo qua e che andremo ad inserire quindi andiamo a effettuare i collegamenti allora come prima cosa stacchiamo la spina in modo da non avere circuito alimentato ovviamente per la nostra sicurezza e andiamo ad intervenire quindi andiamo ad aggiungere innanzitutto un filo di fase in più alla nostra morsettiera che ci servirà come vi dicevo mancava perché nel nostro 2601 non abbiamo la necessità di tenere il dispositivo sempre alimentato perché viene alimentato solamente la bobina quando viene eccitata e di conseguenza andiamo ad intervenire solo sul sulla morsettiera della fase andando ad inserire un filo in più poi andiamo ad aggiungere il neutro e lo andiamo a questo punto a prelevare direttamente dalla nostra morsettiera quindi da qua dalla nostra bobina lo preleviamo da qua e lo andiamo ad inserire sul morsetto N delloscelli ora questa è una prova da banco ragazzi ma in fase di installazione reale io consiglio sempre di inserire dei puntali e fare molta attenzione a non stringere forte i morsetti perché purtroppo secondo me il lato negativo degli scelli è proprio la morsettiera che non è molto molto robusta poi il filo arancione che è quello che va nel 2601 all'altro polo della bobina lo dovremmo andare ad inserire su sv ecco qua allentiamo un pochino la morsettiera ecco qui come vedete è su sv stringiamo stringiamo il morsetto e poi infine dobbiamo collegare il bianco su output e l'altra fase diretta che era dall'altra parte del nostro 2601 andiamo andiamo a collegare su input ecco qui andiamo a stringere il morsetto non prendete assolutamente esempio da me come vedete i fili di rame stanno uscendo abbastanza fuori dai morsetti non effettuate questa operazione anzi prestate molta attenzione come vi ho detto prima per agevolare il cablaggio utilizzate dei morsetti dei puntali che aiutano sicuramente ad inserire i vari fili ora questo è sicuramente un breve test di cablaggio quindi non andremo neanche ad alimentare il dispositivo ma è solo per farvi vedere i collegamenti ecco qua quindi abbiamo zoomiamo un attimino ecco qui abbiamo fase e neutro quindi n blu e marrone nero arancione che in questo caso viene interrotto dal pulsante alla quale abbiamo portato la fase su sv su input abbiamo la fase diretta e su output abbiamo il nostro porta lampada uno dei poli del porta lampada dalla quale dall'altra parte abbiamo portato il neutro direttamente e questo è il cablaggio poi dovremo accoppiare il dispositivo al nostro account shelly e ovviamente dovremo andare a impostare come tipologia di pulsante appunto il pulsante perché di default sappiamo benissimo che lo shelly 1 plus su sv è configurato come interruttore quindi dovremmo andare a mettere pulsante ma lo vedremo dopo adesso do una sistemata ai cablaggi senza farmi riprendere nel video e poi andiamo a sostituire la modalità di funzionamento e poi dopo voglio farvi vedere che anche sullo shelly 1 plus è possibile utilizzare sul morsetto sv sia la fase che il neutro senza andare a sostituire linea e neutro dell'alimentazione del dispositivo questa è una cosa molto molto importante molto molto funzionale anche perché si adatta a tutti gli impianti presenti sia se compulsanti fatti con neutro che compulsanti fatti con la fase l'ho dato una breve sistemata ai fili nei morsetti giusto per non far uscire fuori il rame ho incluso lo shelly nel mio account e come vedete in calce nell'articolo nel video trovate praticamente la procedura per passare da interruttore a pulsante molto semplice comunque andando nelle impostazioni quindi andando a premere il pulsante come notate il dispositivo si accende ovviamente come abbiamo visto più volte in passato anche dall'applicazione è possibile andare a modificare questa cosa e come vi dicevo shelly 1 plus accetta sia fase che neutro sul pulsante in questo momento c'è collegata la fase ma adesso noi andremo a sostituire la fase con il neutro e vedrete che non ci saranno problemi ovvero funzionerà perfettamente anche con il neutro quindi andiamo a staccare corrente e andiamo ad eliminare questa fase qui che è quella che va al nostro pulsante la eliminiamo anche dalla morsettiera ecco qui ci vorrà un istante via ecco che togliamo la fase dal pulsante e andiamo inserire invece il neutro sul pulsante e lo collegheremo ovviamente alla morsettiera del neutro che è laggiù vediamo se si riesce a un pezzettino di neutro molto corto il filo il filo del calzo è sempre in giro scalzo ovviamente e vediamo di inserire questo neutro qui sul pulsante quindi in questo momento su sv che non ho cambiato il filo arancione è sempre su sv ma abbiamo il neutro sul pulsante quindi andando ad inserire la nostra spina andremo a rialimentare il tutto ecco qua e noterete che premendo il pulsante tac tac la luce si accende quindi scelli su sv accetta fase neutro e anche qui non vi fate ingannare da tanti commenti che si leggono in rete va invertito fase neutro non va invertito assolutamente niente nell'alimentazione n ci va il blu e quindi il neutro ed l la fase su sv si può portare sia la fase che il neutro per lui è indifferente accetta entrambi i cavi quindi fase e neutro bene bene amici non mi rimane che salutarvi alla prossima scusate un attimo sempre a disturbare pronto? no illustrissimo maestro ma si figuri no non disturba affatto illustrissimo maestro ma si c'è certo ma certo ci hanno creduto ma come no come no ci hanno creduto certo lo sa che sono molto influente ci hanno creduto il vostro piano di dominare il mondo col pulsante sul neutro vada tranquillo che ancora si 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 ancora in auge si si la saluto che questo telefono potrebbe essere sotto controllo dalle lobby della fase sul pulsante e certo certo ci aggiorniamo per maggiori indicazioni per la conquista del mondo sul neutro non si preoccupi non si preoccupi arrivederla allustrissimo arrivederla a Grazie a tutti.